Alla fine ha dovuto arrendersi Dilma Rousseff ma lo ha fatto lanciando durissime accuse al Senato brasiliano che ha votato la sua destituzione. Il Senato ha commesso un colpo di Stato parlamentare, ha dichiarato dopo il voto ed ha accusato le opposizioni di destra di avere ordito un golpe per rovesciare il suo governo. Ad assumere la guida del paese è stato Michel Gemer che ha già giurato come 37esimo presidente del Brasile. Dilma Rousseff che si è sempre dichiarata innocente era accusata di avere illegalmente manipolato i conti pubblici per coprire i buchi nel bilancio statale ma sul voto avrebbe pesato molto anche la crisi economica e il tradimento delle promesse fatte dall'ormai ex presidente in campagna elettorale. Dilma Rousseff che era stata sospesa dal suo incarico nel maggio scorso ha seguito i lavori parlamentari insieme al suo predecessore e sostenitore Luis Ignacio Lula da Silva. La sua destituzione è passata con 61 voti a favore e 20 contrari. Ora avrà 30 giorni di tempo per lasciare il palazzo presidenziale di Brasile e tornare a Porto Alegre, sua città natale, dove potrà comunque continuare l'attività politica. A sorpresa, infatti, il Senato brasiliano in un voto distinto ha bocciato la proposta di inelegibilità per otto anni che avrebbe segnato la fine della carriera politica della 68enne Dilma Rousseff. La sua destituzione è stata accolta da manifestazioni di protesta che a San Paolo sono culminati in duri scontri con la polizia.